Eccoci! Oggi facciamo l'unboxing della Gavagy Free! Sigla! Partiamo dalla cassa! Ecco i pad dei Tom Ecco il rullante Ecco i piatti Questi sono gli accessori E infine la centralina Passiamo alle meccaniche Questi sono il rack e le aste Ed infine l'asta della JET E con questo è tutto! Se ti è piaciuto il video metti mi piace E per non perderti i prossimi Seguimi su tutti i miei social Ciao!